Chiari amici di FIASP Podismo Informato, buon sabato a tutti, ben ritrovati da Andrea Gusella per questa puntata settimanale di informazione sul podismo ludico-motorio FIASP nella regione Veneto Allora, alla mia spalla come vedete volantino dell'evento che andrà in onda domani a San Martino di Lupa Corico i lupi edizione 2022, percorsi di 6, 11 e 17 km con partenza fissata dalle ore 8.30 alle ore 9.15 da fronte municipio di San Martino di Lupa Organizzazione Uniti per Campretto, l'associazione che da anni segue l'iniziativa con la collaborazione del comune di San Martino di Lupa in particolare con l'assessore Stefania Baron che è un po' il cuore di questo evento e noi abbiamo avuto già buone notizie per quanto riguarda le adesioni e siamo sicuri che domani sarà una bella giornata di sport in San Martino di Lupa con mercorsi decisamente belli e interessanti anche sotto il profilo paesaggistico e storico in regione un po' di eventi anche di peso sicuramente sono l'appuntamento di Badia Polesine con la camminata tra i dintorni di 6, 11 e 21 km una manifestazione che è giunta alla sua 42esima edizione quindi anche in questo caso si tratta di una manifestazione importante ben conosciuta e ben consolidata e non da meno è l'evento che invece ci aspetta in provincia di Vicenza con la marcia per le pratterie e le risorgive di Bresanvido di 5, 9 e 21 km che si svolge a Poianella di Bresanvido in questo caso mi ricordo che la partenza è fissata dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e il gruppo Marciatori Danico ricordiamo che propone questo evento alla sua 44esima edizione quindi stiamo parlando anche in questo caso di un appuntamento veramente importante e storico anche per lo scenario podistico Veneto andando proseguendo per quanto riguarda il nostro territorio abbiamo non abbiamo nulla da segnalare nel senso che in provincia di Verona non ci sono eventi programmati e così pure non abbiamo eventi da segnalare in provincia di Venezia e in provincia di Treviso ricordo oltresì che la marcia di Sant'Andrea di Anguillara Veneta che era stata riportata nei calendari anche in questo caso è un evento che invece viene dichiarato annullato per questa edizione chiaramente gli amici di Anguillara stanno cercando di ricomporre il gruppo e speriamo veramente che nel 2023 ritorni questo importante appuntamento con anche le battezze della zona in particolare la patata americana che ricordiamo veniva servita ai partecipanti sotto forma di torta per quanto riguarda domenica 27 parliamo quindi di appuntamenti della prossima settimana il calendario FIASP propone un appuntamento della stra Rossano, Rossano Veneto 4, 7 e 12 km partenza dalle ore 8 alle ore 9 e 30 in provincia di Verona abbiamo invece il rover Chiara, la peste sull'Adige 6 km e mezzo, 12 e mezzo, 16 km partenza dalle ore 7 e 30 alle ore 9 per quanto riguarda quindi iniziative del 2000 diciamo così di questi prossimi due weekend abbiamo parlato quindi vi diamo appuntamento a questi eventi in provincia di Vicenza e provincia di Verona per quanto riguarda la prossima settimana settimana trascorsa all'insegna degli allenamenti collettivi della Corri per Padova anche questa settimana con la sua terza uscita prossima uscita giovedì prossimo, piazzale stazione saremo presenti in forze come FIAS, Padova per il supporto ai runner che si cimenteranno sul percorso di circa 9 km e quindi ci vedremo lì e per quanto riguarda invece le altre iniziative proposte dai nostri gruppi vi ricordo come sempre gli appuntamenti del martedì a cominciare da Campo San Piero con Mi Vado di Corsa, ritrovo a Villa Campello e quindi uscita per camminatori e runner attorno alle ore 20 del martedì sera martedì sera come sempre ricordo che per chi vuole unirsi alle attività del gruppo Alba Vigoran a Vigonza presso la palestra c'è ritrovo per l'uscita appunto di Vigoran e al martedì sera altro appuntamento che continua in perterrito con costante adesione è quello di Piove di Sacco con gli amici del training dei Rain Runners dell'amico Matteo Fasolato, ritrovo 19.45 al Duomo di Piove di Sacco il mercoledì cammina e corri per il tuo comune organizzato dagli amici della Foreidil a San Giorgio delle Pertiche ritrovo gli impianti sportivi e il mercoledì ci ritroviamo con la quarta tappa del mese a Ponterotto con i donatori di sangue Fidas Ponterotto Montà e il gruppo Paleo Run che vi aspetta per percorsi di circa 5 km per i camminatori e 9 km per i runner restando sempre a mercoledì ricordo l'appuntamento di Montagnana con gli amici di Corri la Mura e quindi l'appuntamento in piazza Trento a Montagnana attorno alle ore 19.45 il giovedì abbiamo detto della Corri per Padova e ricordiamo inoltre che il giovedì sera è anche il momento di ritrovo per gli amici dei cavalli marini di Chiaggio Sottomarina in piazza Unità d'Italia, scusatemi, piazza Europa a Sottomarina alle ore 19.30 circa per l'allenamento settimanale di appunto degli cammini e Corri per Cosa Marina ricordo sempre che abbiamo un gruppo di appassionati di trail che si ritrovano il giovedì sera sono gli appassionati degli United Trail and Running che si danno appuntamento sistematicamente attraverso la rete e si organizzano uscite specifiche per la Corsa Trail sui Colli Ugani Bene, direi che con questo abbiamo finito la nostra carrellata delle attività chiaramente auguro a tutti una buona settimana di attività podistica e di serenità a tutti e ci vediamo la settimana prossima da Andrea Sagusella con l'aiuto come sempre alla regia di Davide Maggiolo un saluto a tutti e buona domenica Grazie a tutti Grazie a tutti.